Musica Maestra Maria Grazia Pezzuto, perché questa protesta? Allora, questa protesta perché la nostra scuola dell'infanzia Nello Polsi è stata praticamente con l'accorpamento a scuole della primaria di Montodorice e di Cupello gli è stata tolta la possibilità di una continuità didattica e quindi praticamente i nostri bambini di 5 anni si dovranno poi iscrivere fuori territorio se non trovano posto ovviamente a vasto perché poi ogni comprensivo mantiene i suoi annuni naturali diciamo in questo caso e quindi con grande disagio delle famiglie e degli insegnanti perché anche le graduatorie interne dovranno essere rimodulate con eventuali anche perdite di posti di lavoro e quindi è una cosa molto grave perché a vasto bastavano due istituti comprensivi e non quattro Maestra Maria Grazia De Torre, allora tutto questo come si ripercuoterà sulle famiglie ma anche sugli insegnanti? Cioè chi si segna a questa scuola? Poi cosa rischia? Innanzitutto secondo me l'anno prossimo non ci sarà più la corsa a questa scuola che non perché noi lavoriamo qui ma è una delle scuole migliori di vasto non lo dico io perché i genitori temono poi la continuità chiaramente se poi alla fine del terzo anno dovranno fare i pendolari perché non hanno più la precedenza perché mentre ora la nostra scuola essendo ubicata sia nello stesso circolo didattico ma anche a 50 metri di distanza dalla primaria di Tuccichinni la continuità didattica è naturale, scontata e quindi a loro hanno anche la precedenza sugli iscritti delle altre zone di vasto questo verrebbe a mancare per cui magari i genitori che abitano in questo quartiere saranno costretti ad andare a portare i figli in altri posti non solo ma... Cioè c'è un rischio che chi frequenta la scuola dell'infanzia qui poi debba andare a Cupello a fare la primaria? Se non ci sono posti a vasto certo anche questo perché nell'istituto nostro comprensivo rientrano anche Cupello e Monteodorisio così come chissà Cupello e Monteodorisio potrebbe comunque venirsi a iscrivere a vasto Se calassero le iscrizioni cosa succederebbe? Eh si chiuderebbero le sezioni e quindi con le graduatorie interne ci sarebbero colleghe che verrebbero a perdere il posto e quindi a ritornare in ballo in tutta la provincia quindi potrebbero andare a finire in un paese sperduto cioè verrebbe a perdere il posto a vasto ma non solo questo cioè essendo con quattro istituti comprensivi siamo al limite del numero minimo consentito che sono mille sotto a mille salta l'istituto comprensivo quindi essendo questi quattro istituti comprensivi di mille, novanta, millecento nessun dirigente scolastico o preside darà nulla osta agli alunni per andare in altre scuole perché rischierebbe con due classi che non si riformano di venire a perdere subito l'istituto comprensivo Allora maestra Maria Grazia Pezzuto, fino a dove può arrivare la vostra protesta e cosa chiedete all'amministrazione comunale? Noi chiediamo fortemente assolutamente che venga riaccorpata una scuola primaria perché è giusto che i nostri bambini possano frequentare e avere la precedenza su una primaria a vasto almeno una scuola primaria Sandra Di Tuglia è madre di due dei bambini della scuola allora siete preoccupati per questa situazione? Certamente che siamo preoccupati io ne ho quattro di bambine e quindi l'anno prossimo dovrei accompagnare una a Cupello e un'altra a Montodorisio e le altre due qui alla scuola, al Nido e mi dica a lei come devo fare, a che ora mi devo preparare Qual è la vostra prima richiesta? Perché le mie figlie dall'Agnello Polsi vado nella Rituccichinni come è giusto che sia? Cioè io abito qui dietro, da casa mia, ci metto 5 minuti a piedi perché devo prendere la macchina per andare a Cupello? Silvio Mancini, genitori compatti? Sì, tutti compatti, sperando ma anche i miei dubbi, forse ci siamo mostri un po' troppo tardi comunque la situazione secondo me è molto preoccupante per quanto riguarda la rimodulazione degli istituti perché come dicevano anche le maestre non c'è continuità didattica io ho avuto anche un'altra bambina due anni fa e devo dire che si è trovata molto bene in questa scuola e proprio per la continuità didattica siamo riusciti a metterla nella scuola primaria Rituccichinni con una continuità didattica da parte dell'Agnello Polsi dove è riuscita ad andare con i suoi amichetti e quindi a trovare un ambiente scolastico più consola alle sue esigenze Roberta Silla, rappresentante di classe, com'è andata la riunione? La sezione seconda A è andata che abbiamo cercato di venirne a capo ma non siamo riusciti comunque a venirne a capo Quale alternativa avete proposto? Allora l'alternativa, visto che comunque noi adesso facciamo parte del terzo circo didattico con la scuola Santa Lucia e le scuole primarie Rituccichinni e la Martella abbiamo proposto, visto che gli alunni comunque distano di due, differenzano di due o tre numeri di fare una specie di spostamento quindi la scuola primaria Rituccichinni con 228 alunni spostarsi nell'accorpamento se possibile del comprensivo Rossetti con la scuola primaria di Cupello che ne ha alunni, ne ha 230 Qual è stata la risposta? Avete contattato l'amministrazione comunale? No, abbiamo cercato prima con questa protesta se riusciamo ad ottenere qualche risultato altrimenti andremo avanti perché non è giusto fare i tagli sopra il futuro dei nostri figli Grazie a tutti i nostri figli